Escludere tutte le pratiche di ricostruzione già presentate agli uffici speciali dell'Aquila e del Cratere e delle restrizioni previste dal Decreto-Leggio del 29 marzo scorso relativo alle agevolazioni fiscali previste nei bonus edilizi. Si è parlato di questo in una riunione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i vertici della Ragioneria dello Stato e una delegazione capeggiata dal Sindaco Perluigi Biondi e composta dai titolari degli uffici speciali e dal responsabile della struttura di missione. Biondi ha fatto presente che gli interventi del Superbonus legati alla ricostruzione non sono responsabili, questo per il 2009, del buco generato dalla misura nel bilancio dello Stato perché ad oggi si stima un'incidenza di soli 40 milioni di euro per il 2023 a fronte dei 210 miliardi stimati dal MEF. L'obiettivo insomma è quello di salvaguardare i processi in corso attraverso una proposta emendativa al decreto che consenta una corretta interpretazione della norma così come condiviso con la Ragioneria dello Stato che secondo il Sindaco è stata disponibile come sempre ad accogliere le stanze dei territori. La ricostruzione dell'Aquila ha inciso in maniera assolutamente impercettibile sul buco che sta causando nel bilancio dello Stato la gestione un po' dissennata dei bonus edilizi. Abbiamo spiegato che a noi serve per completare la ricostruzione non certo per un lusso che si concedono i cittadini e i proprietari delle case abbiamo condiviso la necessità di salvare tutto quello che è in coda stiamo lavorando a un provvedimento emendativo che dopo che è stato condiviso con il MEF sarà emmiato al relatore del progetto di legge del decreto legge in sede di conversione che ho già sentito e ai parlamentari del territorio per il necessario supporto.